Gli atleti sono sul podio, quinta coppia classificata per il team Asad Biella, gli atleti Rondo Abate. Quarta coppia classificata per il team Isaka, gli atleti Maggioli Breconi. E adesso sul podio la terza coppia classificata per il team Fuori Centro, gli atleti Nori Cesari. Sul podio è il momento della seconda coppia classificata per il team ABG, gli atleti Ragone Donato. E' il momento sul podio della prima coppia classificata per il team Ricciardi, gli atleti di Ziro, Gli atleti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!